Ciao amici, ciao a tutti da Mystery Man, oggi siamo qua sul Passo del Bracco con il nostro caro amico Roby PMG Racing che per me è Box. Non ti viene proprio da chiamarmi Roby PMG eh? No, Roby PMG, per me è Box punto e basta. Esatto. Allora, oggi, che bonassino è qui, cioè Roby PMG bla bla bla, io sono qui. Ecco, ci racconterà un po' delle sue vicissitudini del Passo del Bracco e ti dico, oggi che sei qui? Sei felice? Non sei felice? Cioè, raccontaci un po' della tua storia, dei tuoi trascorsi qua. Beh, allora, intanto i miei trascorsi, caro Mystery Man, che ti sei scelto il nome più brutto della storia del canale di YouTube, comunque va bene, fratello mio, tra l'altro. Cosa ti devo dire? Sappiamo benissimo che il mio storico su questa strada è il tuo stesso storico, perché abbiamo iniziato a venire qua su da bambini insieme. Era mio padre che ci portava su questa strada a vedere le moto, quando tu eri zoppo, perché ti eri stampato con il cinquantino, e ti eri demolito una gamba, se ti ricordi. E io ero ancora dodicenne all'epoca, mi sembra, una roba di genocci, dodici anni. Sì, sì. Quindi ogni volta che vengo qui a me mi nasce, mi si scatena qualcosa di primordiale dentro, di antico, capisci? Capite, no? Questa strada è una strada, come vi ho già raccontato mille volte Mystery Man. Ce la faccio a chiamarti Mystery Man, ma va bene? Come vi ho raccontato più volte Mystery, Mister Mystery. È una strada che ha una vita, respira, cresce, no? Ha una storia, ha delle storie, ha delle regole, regole non scritte, che tutti noi dobbiamo seguire se vogliamo vivere in armonia in questo ambiente, no? In questo posto. È la strada più bella del mondo, c'è poco da fare. È la strada più bella del mondo perché ha qualcosa di mistico che solo il passo del bracco ha. E stai fermo con questa telecamera, sei inguardabile. No, se ne acabo di far vedere dove siamo più o meno, e poi non ce lo indichi tu. Li porto io, venite, venite. Noi siamo sul Belvedere del Pipocella. Questa è una terrazza che dà sulla curva più bella e più fotografata della storia del passo del bracco, che fa tutto questo meraviglioso tornante, che poi dà alla strada del passo del bracco, poi si inertica di là verso la baracca e dall'altro lato verso il tagliamento. Tagliamento baracca, il tratto migliore del passo del bracco, perché in realtà è l'unico tratto in pianura. Sono 4 km di curve tra tagliamento e baracca. Dopo la baracca incomincia la discesa, dopo il tagliamento incomincia la discesa, o salita, secondo di che altro lo fate. Quindi questa è la zona in pianura. Avete un po' più di visuale su quello che sta arrivando, quindi su certe curve che danno sul versante giusto, riuscite ad anticipare traffico su due o tre curve davanti, quindi i motociclisti adorano questo pezzo. In più c'è Pocella, dove nei parcheggi si fermano sempre gli spettatori, quindi la platea, la platea, gas a lego, e quindi è una curva molto facile in realtà, ma molto bella, ma non si può affrontare più di cinque volte. Poi un giorno vi racconterò perché, perché poi diventa pericoloso. C'è la legge. La leggenda del quinto passaggio. Il quinto passaggio. E niente, cosa vi devo dire del Bracco? Beh, che lui è sempre qua, perché io non abito più in queste zone, però ero sempre qua anch'io, e basta. Venite su Bracco, girate su Bracco, godetevelo per le storie, con la mistica, con la cultura, se così possiamo dire, di quello che è ed era il Passo del Bracco. Va bene, Box. Ti ringrazio per la tua intervista, per quello che ci hai detto, ci fa molto piacere. Di niente. Di niente. Dopo ti faccio provare la macchina, Misteri. Sì, e dopo facciamo la recensione sulla vega. Vatti a mettere il casco. Sì, sì, perché sennò... Perché sanno chi sei, Misteri. Dai, Box, grazie. Ciao. Al prossimo, ciao. Ciao. Ecco la Kia. Ciao.